Musica Sono Magda, mi occupo di abbigliamento insieme a mio marito Antonio Creaco che è ideatore e creatore della linea bugiarda della ditta di Lu. Parlare di abbigliamento vuol dire unire alla moda creatività, fantasia, femminilità, fascino e colori. Ma alla base di ogni collezione noi uniamo anche la passione e l'amore per il nostro lavoro. Senza questi elementi il capo risulta banale. Infatti noi non dobbiamo soltanto seguire l'indirizzo dei grandi sarti della moda. Il capo che noi indossiamo ha un compito molto importante che è quello di trasmettere agli altri la nostra personalità. Ora vi mostrerò qualche capo in modo che possiate apprezzarlo anche da vicino. Questo è il capo che io indosso. Si può realizzare nello stesso tessuto anche piccole giacchine, spolverini. E si può abbinare anche a questo capo, ad esempio questo spolverino stupendo che è molto semplice nella sua fattura. Nella sua fattura però noi possiamo notare una grande preziosità nelle rifiniture. Ecco questo è un altro abito realizzato anche in shanton di seta. Ogni nostro capo è dotato di due cartellini. La bugiarda che è il primo cartellino e l'altro cartellino che è produzione italiana artigianale quindi un cartellino di garanzia PAI. Ora possiamo dare un'occhiata a quello che è la nostra collezione. Sono 450 capi in tessuti e modelli diversi. Noi vi aspettiamo in modo tale che possiamo in questo modo conoscerci e vedere insieme quello che può essere il capo più adatto per voi. Le taglie della nostra collezione vanno dalla 38 alla 54 e facciamo anche abiti su misura. Grazie e noi ce la mettiamo tutta. Forza Italia, non mollare! Grazie a tutti! Grazie a tutti!